Venendo meno al rispetto dell'articolo 13 del regolamento sul verde pubblico, sono 80 tra pianta del Rosario e palme americane quelle interessate dai lavori nei 900 metri del tratto di strada che va dalle naia di a via Ruggero VII. La perizia della dottoressa forestale Caterina Artesi nei giorni scorsi ha confermato che queste operazioni di cementificazione che ha già comportato il dimezzamento della siepe sempreverde e latomare stanno insidiando la stabilità delle piante e per le stesse in futuro sarà impossibile sviluppare nuovi apparati radicali. Sono dei lavori dannosi perché nel caso specifico stanno interessando il patrimonio arboreo della strada parco compromettendo la salute e la stabilità di ben 80 piante perché i lavori che sono stati effettuati sono stati lavori massivi sulle radici hanno interessato almeno il 50 per cento dell'apparato radicale e questo ha procurato un danno evidente alle piante. Lavori che sono stati fatti da operai che hanno ben alta specializzazione. Il comune aveva giustamente emesso delle prescrizioni, queste non sono state almeno dalla ricognizione che è stata fatta osservate ma aveva il dovere di vigilare. Questo intervento metterà in pericolo i fruitori della tratta. Per questo il gruppo consigliare del Partito Democratico di Pescara, contattato dal comitato, è intervenuto chiedendo un intervento visivo dei vigili urbani, della commissione ambiente ma soprattutto dell'assessore e vice sindaco Gianni Santilli. Questo è il cantiere più discusso della città di Pescara. Attualmente abbiamo risposto alle sollecitazioni dei comitati che difendono la strada parco, difendono il verde pubblico, dei cittadini che in queste ore, in questi giorni ci hanno inviato segnalazioni, foto, mail, messaggi per denunciare quello che sta accadendo su questa via. Sono circa 80 le piante che rischiano di morire, circa 80 le piante a cui sono state tolte le radici e al posto delle radici è stato buttato cemento. Siamo qui a denunciare questa operazione ma ancora di più anche l'assenza totale dell'amministrazione comunale. Il vice sindaco Santilli, assessore al verde, dovrebbe essere presente sul cantiere per vedere cosa sta accadendo agli alberi della città di Pescara che è il vero patrimonio arborio di tutta la città ed è un patrimonio da tutelare perché è troppo prezioso. Resta comunque il problema ancora su questa filovia? Ma il problema su questa filovia è tale da più di 20 anni ed è il motivo per cui noi qui stiamo parlando di lavori e il filobus non passa e non passerà perché questi lavori non sono proprietari al passaggio della filovia.